Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, un caso sospetto di febbre e dengue nel territorio arettino esattamente a Montevarchi. Il sindaco Silvia Chiasai fa sapere di aver firmato l'ordinanza urgente per la disinfestazione in via Cennano e nelle aree limitrofe a seguito appunto di questo sospetto caso di virus dengue in un paziente di ritorno da un viaggio in Asia. È stato comunicato ovviamente dal Dipartimento della Prevenzione e Igiene Pubblica dell'ASL Toscana Sud-Est. Un altro incidente sul lavoro, questa mattina in Valtiberina alle 10 a Sansepolcro, un uomo si è tagliato ad un braccio mentre stava pulendo una falciatrice sul posto. Sono intervenuti i sanitari dell'ASL, gli operatori del PISL e i vigili del fuoco assieme ai carabinieri della compagnia di Sansepolcro. L'uomo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Torniamo a parlare di via Fabio Filzi ad Arezzo dove sappiamo doveva sorgere la nuova caserma della Polizia Municipale, progetto per il momento fermato. E allora sentiamo che cosa ha raccolto la nostra Chiara Sadotti. Il cantiere ormai è una catturana del deserto, addirittura ci sta crescendo una vegetazione aliena, non si sa neanche che roba sia se guardate le piante. E' tutto fermo, tutto. Ancora tutto fermo in via Fabio Filzi, qui dove una volta Chiara un asilo sarebbe dovuta sorgere la nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo. E' un disastro del comune, eh. I lavori, cominciati nell'ottobre 2022, che sarebbero dovuti terminare nell'arco di 365 giorni, lo scorso aprile avevano subito una battuta d'arresto. Alla base dello stop, motivi economici tra cui caro materie prime e approvvigionamento energetico. Anche un usaggio per noi perché mancano posti macchina, la circolazione lì è un po' la strada ridotta e quindi, e poi, onestamente, non è manco un bel vedere. E se vogliamo ci sono anche delle decole pericolanti lasciate lì, che se con questo tempo arriva una bella ventata, una cosa, c'è il rischio che qualcuno passando possa anche incorrere in qualche brutto incidente. Il comune di Arezzo aveva già annunciato di aver avviato la procedura per la risoluzione del contratto con l'azienda appaltatrice dell'Opera, ITER, che starebbe per concludersi. Nei prezzi della struttura cresce la rabbia dei residenti, come del resto anche la preoccupazione, degrado e spaccio, le problematiche principali. Poco sicuro ci sentiamo. Qui c'è un casino alla notte, sopra quel contratto del gas lì, quello che sta sopra, aprirà sportello lì, pieno di siringhe, ma pieno. Il movimento c'è la sera, questo sì, c'è un bel po', ma anche durante il giorno, perché si mettono laggiù all'angolo, poi si mettono all'angolo di là con via Rismondo. Io mi auguro che facciano la svelta perché almeno possa servire come deterrente. Troppa fretta di nascere, così una retina di 38 anni ha partorito il suo piccolo sul pianerottolo di casa, al quinto piano, in una palazzina del centro di Arezzo. La donna aveva già chiamato un'ambulanza e stava cercando proprio di prendere l'ascensore per recarsi in ospedale. Ma all'arrivo dei sanitari, in questo caso della misericordia di Arezzo, questi ultimi si sono accorti che il parto era davvero in corso. E così è stato fatto ovviamente tutto il necessario per far nascere il piccolo in piena sicurezza. È così accaduto grazie all'intervento di un infermiere e di una dottoressa dell'emergenza urgenza. Sia il bimbo che la madre sono in ospedale e stanno bene. Attimi di concitazione lungo il tratto di strada che costeggia via Ferraris e il raccordo dell'autostrada. In corrispondenza dell'impianto semaforico si è infatti sviluppato un incendio che ha coinvolto una buona parte di sterpagli e diversi metri di terreno sono andati appunto in fumo. E allora torna prepotente il pericolo degli incendi. Per questo la Regione Toscana ha deciso di vietare gli abbruciamenti fino al prossimo 24 settembre. La scarsità di pioggia e la presenza del forte vento di questi giorni rendono di nuovo alto il rischio di incendi boschivi. Per questo la Regione ha deciso di ripristinare il divieto assoluto di abbruciamento di vegetali, agricoli e forestali su tutto il territorio a partire da sabato 9 sino a domenica 24 settembre compresi. La tendenza meteo a medio termine elaborato dal Consorzio LAM dà indicazioni su un probabile innalzamento degli attuali livelli di rischio per lo sviluppo e la propagazione degli incendi boschivi in tutta la Regione a causa dell'alta pressione che determinerà ancora bassa probabilità di precipitazioni e bassi tassi di umidità. Così sino al 24 settembre oltre al divieto di abbruciamento dei residui vegetali è vietata anche qualsiasi accensione di fuochi. Sono esclusi dal divieto la cottura di cibi in braceri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. Il mancato rispetto di queste norme comporterà l'applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. La Regione sottolinea infine l'importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero di emergenza 112. Parliamo di scuola adesso ogni anno si ripropone a poche ore dalla prima campanella lo stesso problema. In questo caso parliamo dell'assegnazione delle cattedre a far sollevare gli animi. È stato l'annullamento del bollettino del 7 settembre ovvero le individuazioni delle nomine a tempo determinato del personale docente ed educativo proprio per il prossimo anno scolastico pubblicato sul sito dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana. In questo documento 17 pagine sono elencati i nominativi dei professori assegnati alle varie scuole medie e superiori della provincia. Peccato però fanno sapere alcuni precari che metà di quelle assegnazioni non sono corrette. Ma non solo il bollettino uscito è stato appunto annullato con assolutamente alcun preavviso. Quindi chi si è dovuto muovere per prendere servizio oggi ha dovuto fare i conti appunto con un nulla di fatto. Come dicevamo a pochi giorni davvero dal suono della prima campanella. Prima campanella che suonerà regolarmente alla scuola dell'Orciolaia dove come sappiamo è stato rimosso l'amianto in classe nei tempi previsti. Ha detto il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti mentre per il nido si dovrà ancora attendere. In questo caso l'apertura è prevista per il 18 settembre. Il servizio. La scuola dell'Orciolaia è pronta per l'anno che sta per cominciare. Da lunedì 11 settembre riaprirà il servizio d'infanzia con un solo giorno di ritardo rispetto al calendario ufficiale. Qualche giorno di attesa invece per il nido che entrerà a pieno regime a partire da lunedì 18 settembre. Nei cinque giorni di intervallo rispetto all'inizio ufficiale i servizi educativi del comune di Arezzo hanno provveduto a garantire una risposta a quelle famiglie che hanno manifestato la loro impossibilità organizzativa. Definitivamente ultimati quindi lavori per l'eliminazione dell'amianto già incapsulato precedentemente, un intervento di manutenzione bonifica ambientale ha interessato la pavimentazione dell'immobile. Dopo il via libera dell'Asla per la chiusura del cantiere, arrivato solo nella seconda metà di agosto dopo le verifiche effettuate dal laboratorio di analisi, la ditta incaricata ha proceduto immediatamente ad effettuare gli ultimi lavori necessari per la piena agibilità della struttura, commentano il vice sindaco Tanti e l'assessore Casi. In ritardo nella lettura dei risultati da parte del laboratorio, per responsabilità di nessuno, ha fatto perdere quasi un mese di tempo alla ditta che aveva finito i lavori a fine luglio. Da qui concludono un piccolo ritardo di 1,5 giorni. Adesso parliamo di lavoro perché dopo l'ok via libera del Tribunale di Milano di circa due settimane fa, il fondo Greybull McLaren ha versato i primi 5 milioni per poi arrivare al controllo definitivo della FIMER. Il fondo Greybull McLaren Applied ha versato i primi 5 milioni per il controllo di FIMER. È il primo versamento nell'ambito dell'investimento complessivo da 50 milioni di euro per l'acquisizione definitiva di FIMER. Dopo il via libera del Tribunale di Milano, l'operazione dunque di salvataggio del gruppo, che a stabilimenti a Terra Nuova Bracciolini, nella Retino e a Vimercate, Monza-Brianza, si sta concretizzando. L'azienda, che opera nel settore delle rinnovabili, versava da circa due anni in una grave crisi finanziaria. Adesso la svolta. Oggi è l'inizio di un nuovo capitolo tanto atteso per FIMER, si legge in una nota ufficiale del fondo, che ora ha accesso a risorse finanziarie importanti, a un nuovo consiglio di amministrazione e prossimamente a un nuovo azionista industriale. Ringraziamo tutte le parti coinvolte per il loro sostegno nella conclusione di questo cambio di proprietà e rivolgiamo un ringraziamento particolare ai dipendenti di FIMER che sono stati tenaci nel corso delle turbulenze degli ultimi due anni. E allora, in molti sostengono che potrebbe essere una infrastruttura che porterebbe non solo a delle agevolazioni sul fronte dei trasporti, ma anche a nuovi posti di lavoro. Parliamo della stazione Media Etruria, per la quale è stato firmato un protocollo di intesa nelle scorse ore a Città di Castello. C'è un patto umbro-toscano. Sull'alta velocità i sindaci della Valtiberina Toscana e dell'Alto Tevere si sono riuniti per dire sì alla soluzione di Rigutino, come stazione ferroviaria per Media Etruria. L'incontro si è tenuto a Città di Castello, nella sala della Giunta Comunale. In rappresentanza della Valtiberina Toscana, il sindaco di Anghiari e presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, che guida la delegazione dei comuni di Sansepolcro, Monterchi e Pieve Santo Stefano. La scelta che i tecnici, non quest'anno, ma anni fa, avevano migliorato come sede migliore, proprio dal punto di vista di quello che è l'asse della strategia. C'è un intero fascino, è questo, quello della provincia di Arezzo, ma in questo caso anche dall'Alta Valle del Tevere ci metto anche la mia Valtiberina, che chiedono a Gran Busce che si faccia la scelta di Rigutino. Ricordo che già in precedenza siamo a provincia di Arezzo, ma anche le due regioni, avevano disegnato nel strumento urbanistico quella che era proprio la stazione di Mediaturia Sorrentino. Credo che sia un dovere da parte di tutti avvantaggiare questo foro. Naturalmente la scelta sarà degli enti superiori, ma è bene che le comunità e i territori, in cui quest'oggi questa alleanza, questo protocollo di intenti tra i comuni dell'Alta Valle del Tevere e quelli della Valtiberina Toscana suggerdano solo una comunità di interessi, ma anche una misura comunica e strategica del dono. Presenti all'incontro anche i rappresentanti del comitato Sava, Domenico Alberti e Corrado Chieli. I comuni dell'Alto Tevere di Toscana e Umbria, si legge nel comunicato, seguono con molta attenzione il dibattito sulla stazione ferroviaria Medio Etruria e sollecitano la definitiva approvazione e progettazione della stazione sulla linea ferroviaria di alta velocità che unisce Milano a Salerno. La collocazione non può essere che il rigutino, scrivono unica soluzione che consentirebbe l'interscambio ferro-ferro alla stazione di Frassinetto con la linea Roma-Firenze e sulla base degli studi tecnici effettuati andrebbe a servire anche molti più utenti rispetto alle soluzioni di Creti e Chiusi. La realizzazione della stazione, conclude il documento, rappresenta sicuramente per i territori interessati un'opportunità per nuovi investimenti e per nuovi posti di lavoro. Le ali del Pegaso ad Alessandro Dioni, lo studente 17enne che lo scorso 7 luglio salvò la vita ad un 52enne colto da un infarto. L'adolescente capì subito di cosa si trattava. Corse a prendere il defibrillatore presente nella zona in cui si trovava e con quello appunto gli salvò la vita grazie anche al massaggio cardiaco. La cerimonia di consegna di questo importante premio per il ragazzo si terrà martedì 12 settembre alle 12 nella sala del gonfalone del Palazzo del Pegaso, ovviamente di Firenze. Sarà il presidente del Consiglio regionale a consegnare il premio, Antonio Mazzeo, e lo studente sarà accompagnato dai docenti, i suoi professori Daniele Gallastroni ed Elena Saletti. Sarà inaugurata domani la prima festa di piazza che inaugura appunto questo tipo di iniziative sempre ben volute, sempre ben riuscite. Parliamo di Via Romana in festa. Il taglio del nastro è appunto per domani alle 18.30. La manifestazione è organizzata da confedercenti e dai commercianti della zona con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e del Comune. E a proposito di feste e fiere e ai nastri di partenza anche l'edizione 2023 della Fiera del Mestolo. Abbigliamento, casalinghi ma anche specialità alimentari provenienti da tutta Italia e come da tradizione bimini e articoli in legno. Torna ad Arezzo la Fiera del Mestolo in programma il 9, 10 e 11 settembre. Quest'anno dunque i giorni di svolgimento sono rispettivamente un sabato, una domenica e un lunedì. Il classico appuntamento fialistico a retino dedicato all'indispensabile utensile si svolgerà in zona Eden. Saranno circa 250 i banchi di ambulanti e commercianti dislocati in città da via Spinello a via Niccolo a retino, da via Guadagnoli a via Margaritone. Il percorso però quest'anno si accorcia. Non ci saranno infatti banchi né in via Pietro a retino né in via a sab. Presente come sempre il Calcit in piazzetta ai Dogori con la tradizionale offerta del mestolino. Iniziativa che va avanti dal 1999, anno in cui il comitato presentò il mestolo più grande del mondo, alto oltre 5 metri. Il ricavato sarà destinato al servizio di cure domiciliari oncologiche, servizio scudo. Quei tre maledetti amici è stato davvero un grande successo per lo spettacolo di Aber, Veronesi e Nino Frassica a Monte Barchi. Il giardino ha messo centinaia di sette navi. Centinaia di sette navi. È grande, è grande, centinaia di sette navi. Eolo, pisolo, mammolo, cucciolo, cutolo, quello che ha detto. No, cutolo, quello che ha detto. Non c'è, non c'è. Curro, quello che ha detto. Non c'è, non c'è. Ironici, dissacranti e a ruota libera. Alessandro Aber, Giovanni Veronesi e Nino Frassica in Piazza Varchi a Monte Varchi hanno portato lo spettacolo Quei tre maledetti amici, uno show che per la prima volta è uscito dalle mura di un teatro. L'idea nacque nel 30 marzo di qualche anno fa da Giovanni Veronesi. Però era il 30 marzo, l'anno non ha importanza. L'idea venne a lui di organizzare uno spettacolo dove tre amici si incontrano e parlano e si rivolgono al pubblico dicendo qualsiasi cosa. I tre maledetti amici sono proprio loro che si sono esibiti davanti al pubblico senza un copione, mandando abbraccio e secondo l'ispirazione del momento. Quale copione? Noi ci siamo incontrati stasera via alle sette e mezzo e francamente erano mesi che non ci vedevamo. Quindi non sappiamo, anzi la cosa che ci piace più di tutto è proprio questo brivido di entrare sul palco senza sapere bene che cosa dobbiamo fare. Giochiamo, giochiamo, siamo amici, maledetti nel senso largo della parola perché la maledizione comporta anche volersi bene perché è bene il contrario, hai capito? Ad accompagnare i tre comici sul palco la compagnia, musica da ripostiglio. E siamo allo sport, Arezzo sta per vivere due momenti davvero molto importanti. Domani alle 18.30 la prima partita in casa contro la Carrarese e domenica poi alle 19 la festa per i 100 anni a Maranto. Insomma due giorni davvero di fuoco e importanti appunto per i colori a Maranto. Intanto la prevendita dei biglietti per l'esordio casalingo appunto dell'Arezzo sta davvero andando a gonfie vele. Ma sentiamo mister Indiani appunto nella consueta conferenza stampa pre-partita. C'è grande entusiasmo e arriva diciamo una delle orrazzate del campionato. Una squadra importante fatta proprio per vincere. È un banco di prova fondamentale per noi per vedere chi siamo. Ecco dopo il primo esame dei primi siamo stati quello più importante che ci dice. Ma il morale non semplicemente credo sia. Se il morale fosse basso sarebbe del Rio però. No, il morale è a posto un centro di dubbio. Non mi abbiamo preparato la partita. Come tutte le settimane prepariamo la prezzata. Non è più nemmeno. L'abbiamo preparata il Rimini la scorza settimana. Questa abbiamo preparato la prezzata. Una attrazione anteriore, squadra importante, squadra importante in tutti i reparti. Interiore, posteriore, centrale, squadra importante. Importantissima con 20 quasi isolari. Parliamo ancora dei colori amaranto perché hanno dato il benvenuto proprio di recente l'Arezzo calcio femminile alla centrocampista ucraina classe 2004. Maria Amel Taleb arriva in amaranto dopo aver vestito nella scorsa stagione la maglia del Tavagnacco in Serie B per la nazionale ucraina. Quella con la formazione friulana è stata la seconda esperienza italiana dopo essere arrivata in Italia grazie alla Sampdoria. La calciatrice sarà a disposizione del mister già a partire dalla prima Coppa Italia contro la Lazio. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci.